Una task force per il Corsalone, il Consorzio di Bonifica e il Comune di Chiusi della Verna hanno infatti unito forze e risorse per sistemare uno dei fiumi più suggestivi della provincia di Arezzo e per mettere in sicurezza l'abitato. Il Consorzio ha così messo in campo tecnici, progetti ed esperienza, il Comune ha invece offerto dei massi ciclopici necessari per ripristinare le difese spondali. Ha riguardato il tratto a monte del centro abitato, proprio in adiacenza al centro abitato, principalmente in sponda destra, dove adesso sono presenti dei repellenti in gabbioni che a seguito di eventi alluvionali sono stati divelti e in parte scalzati al piede. L'intervento è stato quello di realizzare una scogliera dove il repellente non è più presente, quindi nel repellente longitudinale, e andare a coprire fino alla testa del repellente trasversale, che anche esso non aveva più la parte sommetale di velta. Facendo così, quindi oltre questa realizzazione di questa scogliera, è stata di circa 40 metri, sono stati sottofondati tutti questi repellenti che non avevano più appunto appoggio al piede. Si è trattato di un'operazione importante dal punto di vista idraulico, ma in modo economicamente sostenibile, circa una decina di migliaia di euro. Può aprire una via anche in futuro, soprattutto per interventi non particolarmente onerosi, che esulano dal documento operativo della difesa del suolo, possono permettere un intervento in sinergia. Direi, utilizzando un esempio un po' forzato, ma una sorta di ati, associazione temporanea di imprese, come mettere insieme le esigenze del comune e le risposte che il consorzio è in grado di elargire. Gli interventi sono stati eseguiti in urgenza con l'obiettivo di arrestare i fenomeni erosivi, la completa messa in sicurezza dell'aria e quindi la realizzazione di un'opera definitiva sarà compiuta una volta richiesta ed ottenuto l'accesso alle risorse messe a disposizione dalla regione toscana nel documento operativo di difesa del suolo. Un'opera fatta dopo l'alluvione del 66, che è un'opera importante, ecco, che con questo ripristino abbiamo rimesso tutto in sicurezza, che poi prossimamente entro quest'anno entreremo anche nella seconda fase, insieme alla regione per arrivare a un intervento definitivo sul Corsalone.